Qual è quella cosa che ti fa stare apparentemente bene però poi ti devasta la vita portandoli sull'astrico e rovesciando vagoni di merda sulla tua persona? La droga! La droga! La droga! Le droghe possono avere diversi effetti ma io la vedo così. La droga! La droga! Non c'è colpo di tosse qui! Vado! La droga! Dai stavo a scherzà su! Se la fa più a male dai! La droga! Io lo porto sì. Maionese, succo, ma che risolio, ma sarà la santa cucina e ci metto un po' di parmigiano. Ragazzi, ragazze, le droghe fanno male. Ce n'è una però che secondo me, prima cosa legale, seconda cosa dà dipendenza. Tanti ci sono andate rinchiute in clinica, però non fa male. Secondo me è perfetta per tutti e ve la consiglio. Questa droga è la f***a. Dopo, magari, una bella sigarettina e via.